Teresa May, salvata dal voto del Parlamento britannico, prosegue la sua strada con l'obiettivo di raggiungere entro il 29 marzo un accordo per uscire dall'Unione Europea. 71 giorni, tanti ne mancano, alla fatidica data 71 giorni durante i quali la Premier britannica deve delineare un percorso condiviso tra le diverse forze politiche in modo da poter tornare in Parlamento e ottenere un voto favorevole. Il tempo è poco e le questioni sul tavolo sono molte e le posizioni tra i diversi partiti siderali. I laboristi puntano a un secondo referendum che cancelli l'esito del primo, quello nel quale la maggioranza dei votanti ha scelto di abbandonare l'Unione, anche perché Jeremy Corbyn, leader dei laboristi, a qualunque possibilità di collaborazione antepone una condizione non da poco, la promessa formale da parte del Governo che l'ipotesi di non raggiungere un accordo con Bruxelles venga rimossa del tutto. Insomma, entro il 29 marzo i laboristi pretendono che venga raggiunta l'intesa e ricordiamo che qualora non venga raggiunto l'accordo e la Gran Bretagna uscisse in maniera incontrollata dall'Unione, Londra rischierebbe pesantissime conseguenze economiche. Si parla addirittura del 10% del suo PIL in 15 anni. Cominciano a temere un'eventuale uscita disordinata anche alcuni paesi europei, come ad esempio la Germania, la cancelliera Angela Merkel. Pur contrario a rivedere i pilastri dell'accordo, sa bene che non raggiungere l'intesa comporterebbe un contraccolpo anche per un'economia tedesca già provata da diversi fattori. Per questo motivo si lavora a trovare un'intesa o, alla peggio, a ottenere una proroga di tre mesi. Questa dovrebbe essere richiesta da Londra e motivata. A quel punto Bruxelles potrebbe accettarla, anche se bisognerebbe decidere come affrontare lo spinoso passaggio delle elezioni europee. E guarda alle urne, con una certa preoccupazione, il leader francese Emmanuel Macron, per il quale, alla vigilia del voto, l'Europa deve mandare un messaggio forte agli euroscettici. Bruxelles non tratta con nessuno. Lunedì la MEI tornerà in Parlamento per aggiornare. Non c'è tempo da perdere.